Marge, ho sentito che voi parlate sempre di me, dite che io mangio tutte le ciambelle di questa casa, ma come fate a dire certe cose, se io sono bravo come un angelo con tanta rabbia? Sì, ma chi mi ha detto che l'altra volta tu non le hai mangiate? Le ho viste sul tavolo e le hai prese, te le sei mangiate tutte e non lasciate neanche una a Bart. Dai Marge, ti perdono, basta che adesso mi porti delle belle ciambelle calde e fresche. Ti ricordi che una volta me le portavi sempre a letto? Ed erano tutte belle, buone, dolci, con la cioccolata. Oh no, questa volta no, non mi prendo, no, 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 non ci sto. Eccomi bambini, vi ho portato a scuola e comunque ricordatevi oggi che se farete i cattivi io vi prenderò e vi farò saltare in aria. Grazie mamma, ma questa volta ci penso io a comprarmi questo libro molto essenzialmente. E allora tu Bart, cosa vuoi fare oggi? Oh niente, dove sei tanto uscire con Milouse e tutti gli altri amici che ho della combicola? Oh no, non è giusto, i bambini come crescono. Non si preoccupi signora Marge, volevano soltanto bruciarle l'auto signora. Seymour, ti ho detto soltanto di pulirmi le pesche e non di parlare con le signore. Qualche giorno l'ammazzo.